Salve a tutti, qui Antonio Cianci per voi e passiamo alla recensione di un film d'animazione del 2012, dell'anno passato, per la regia di Rich Moore ed è Ralph Spaccatutto. Ho deciso di recensire Ralph Spaccatutto perché è un film targato Disney ma ha un'impronta pixariana veramente di gran spessore che si fa sentire lungo tutta la sua durata di film e è stato supervisionato tutto questo lavoro da niente un po' di meno che John Lasseter colui che sta a capo della casa Pixar e creatore anche della saga di Toy Story. Allora, da dove possiamo iniziare? Dall'impianto grafico, dalla regia notevole, dalle varie locations che invogliano lo spettatore a seguire ancora di più le vicende, una storia mai tanto semplice ma mai tanto riuscita per un film d'animazione, soprattutto comunque in periodi recenti. che si allontanano, allora, quando durante questi anni la Dreamworks Animation ha avuto la meglio con storie, vediamo, tipo Dragon Trainer, Megamind, bene, ecco, soprattutto questi due prodotti mi hanno convinto e mi hanno portato alla decisione che la Dreamworks stava superando di gran lunga la Pixar che ultimamente sta sfornando film come The Brave e Cars 2 che cosa stiamo calando? Stiamo calando un po' troppo in termini di qualità. Però, allora, si è riscattata la Disney, specialmente la Disney, prendiamo comunque la Disney in considerazione, con Ralf Spaccatutto si è ingranata la marcia, una marcia più alta e ha tutto gas verso una storia inedita ambientata nel mondo dei videogiochi con un protagonista ben scritto, efficace, di gran presa sul pubblico che è un cattivo di un videogioco che vuole trasformarsi, vuole ricevere la medaglia dell'eroe e far capire chi comanda e alzare il livello della sua reputazione, è scorrevole, come tram è scorrevole, ti ingrana la marcia anche in termini di, abbiamo detto, ambientazioni, perché ci sono, va bene, c'è la grafica 8 bit iniziale, nel primo gioco Felix aggiusta tutto, dove si ritrova il nostro protagonista, il cattivo di Felix aggiusta tutto e abbiamo una tecnica veramente notevole e ho visto dietro le quinte e gli animatori hanno detto che dovevano fare dei passi indietro e disimparare tutto quello che avevano acquisito nei confronti del modello 3D, tridimensionale, delle linee guida per far muovere ogni parte del personaggio animato e hanno dovuto così disimparare le tecniche, le tecniche comunque aggiornate negli ultimi tempi per rendere, avere un effetto meccanico con comunque personaggi di contorno a Ralf spacca tutto, con personaggi che si muovono a scatti e quella per dare comunque vita a una grafica 8 bit sensazionale che, non lo so, è sbalorditiva. Poi abbiamo, comunque Ralf deve bazzicare di gioco in gioco, non sto qui a elencare di preciso, sì, accenno, faccio un piccolo accenno a Heroes Duty, dove risalta la grafica HD in tutte, cioè una grafica di, comunque di pixel graficamente superiore a quei pixel, ovviamente all'8 bit iniziale e poi per proseguire poi in un mondo caramellato dove regnano dolci di ogni tipo e dove si prende di peso la saga di Mario Kart e la si comunque traspone in, la si trasporta in questo mondo, di Ralf spacca tutto e il gioco prende il nome di Sugar Rush, dove troviamo la Vanellope, la coprotagonista, spalla poi di Ralf, una presenza, di una presenza scenica veramente ben riuscita, una presenza scenica d'impatto, scusate, e una protagonista, ecco, quello che volevo dire, una protagonista che prende lei la, cioè si trasforma lei nella protagonista, dalla metà pellicola in poi, perché comunque si impone lei con le sue sfaccettature, con, dove lo spettatore è più coinvolto nella lettura di questo personaggio e Ralf si mette da parte per far risaltare ogni minimo strato del carattere di Vanellope. è ben riuscito, anche il doppiaggio, il doppiaggio che dà, dà modo, dà una, un, comunque dà un valore, un'aggiunta di valore al tutto e, niente, grafica, ben curata, la regia, la regia non eccessivamente articolata e che, comunque ci mantiene concentrati sulla trama e sullo sviluppo di essa, e un finale emozionante, è un finale che, ok, che sembra ai più frettoloso, però, comunque, se si dà, ehm, se si dà, ehm, un'occhiata ai dialoghi che ci sono nei, nelle ultime scene, ehm, ecco, poi alla fine della, quando l'avevo visto a metà dicembre, alla fine del film, io sono uscito dalla sala molto soddisfatto, ho acquistato il blu-ray disc, beh, non si, non potevo farne almeno, e, ehm, e poi niente, niente, devo anche citare Paper Man, ehm, cortometraggio animato che ha vinto l'Oscar, eh, sia lodata l'Academy, meno male, almeno in quello, beh, se l'è, comunque meritato, il premio Oscar, al miglior cortometraggio d'animazione, Paper Man è stupendo, eh, vi consiglio di dare un'occhiata, ormai è ufficiale, è pubblicato ufficialmente su YouTube, mi sembra, e Paper Man è una, graficamente sbalorditivo, con una morale finale, eh, comunque un, un viaggio di un, ehm, di un personaggio sfigato, tra virgolette, che è denso di metafora, ed è, e prende, e, eh, fa stritolare il cuore, questa, questa mini pellicola, eh, e, eh, e niente, ti rimani impresso, ti rimani impresso nella testa, eh, basta, io ho finito, mh, con Alfa spacca tutto, and, and Paper Man, e vedremo cosa recensire, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi.